partita la serie due per la prima serie ragazzi Nicola Spanieri in uno Nicola Agio in due forse a tre Luca Pegorin Alessandro Di Marco in quattro Tommaso Toneolo in cinque Jacopo Mazzurana in sei Matteo Rossi in sette Alessandro Marchi in otto tanto l'arrivo ufficioso trentuno sessantasei Martello Rossi trentadue ventisei a trenta